Due punte per rinforzare l'attacco di Massimo Rastelli e questo è l'obiettivo dell'Avellino per potenziare la linea offensiva. Il DS Enzo De Viti ha lavoro per accontentare il tecnico partenopeo. I Lupi hanno accelerato per il senegalese ma tutto un carale. Ex Lazio non è stato convocato dal Cittadella per la gara contro il Pisa e dentro un lunedì il suo accordo con il Sotelizio Irpino potrebbe essere formalizzato permettendo al trainer De Lupi di avere una prima nuova vedina per la gara contro il Messina. I primi contatti dell'Avellino con Roberto Defanti, agente del calciatore, si sono stati alla fine di dicembre. Battuta la concorrenza del Foggia per Tunkara e il ritorno in C dopo due stagioni a Cittadella. Adesso l'obiettivo del direttore sportivo Enzo De Vito è quello di mettere a segno un colpo importante, portare in bianco-verde almeno un elemento di prima fascia. Resta sempre caldissimo il nome di Michele Marconi del Sud Tirol, giocatore per cui ha mostrato gradimento ormai da tempo, Massimo Rastelli. Una lunga carriera tra B e C dove ha fatto molto bene, soprattutto con le maglie di Pisa ed Alessandria. 126 reti all'attivo in carriera con il dialogo e resta apertissimo. Venezia, Spaglia, Atalanta e alcune delle altre squadre in cui ha giocato. Alessandro Gabrielloni, protagonista della doppia cavalcata del Como, dalla D alla B con 51 reti, resta un altro nome appuntato sul taccuino. Per lui anche una buona esperienza in campagna con la Cavese, 16 gol all'attivo in Serie D. Per via del famoso effetto domino, che potrebbe scattare in B nei prossimi giorni, non si perde di vista Federico Dionisi dell'Ascoli, in scadenza di contratto con i marchigiani. Classe 1987, con i bianconeri ha disputato 68 incontri, messo a segno 19 gol e collezionato 11 assist. Una vita invece tra le fila del Frosinone, dove ha giocato 209 partite e collezionato 63 reti. 126 presenze e 41 reti con il Livorno, senza dimenticare un'esperienza in Portogallo e quelle con Atletico Roma e Celano. Resta in uscita Jacopo Murano, attenzionato da diversi club, ma che in questi giorni ha visto un'accelerata da parte di Picerno e Monopoli, con la compagine Lucana, che si è seduta al tavolo delle trattative con il suo entourage.